Boh, viene un'altra riserva. Si va. Scegliamo giù. Infatti racciciamo, aspetta che faccio. Sì, solo. Scegliamo giù. Scegliamo giù, ciò. Sì, va bene, va bene. bom, si va Sabe? 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 l'alberello la lata non si è mentre la lata non si è mentre la lata non si è e quindi la lata non si è 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 Grazie a tutti. sono due salti rapidi da fare adesso la stai rica va bene da c'è un'arita che fa flettere incontro a me c'è un angolo con il giasco e voilà! viata l'intera! si può fare! ciao!